Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Salute. Mi sono in Amsterdam-Orienta. Il mio nuovo quartale. Mi sono qui. E io sono in un parco per praticare il mio anno con il fuoco. Adesso posso vedere che i luoghi sono molto più grandi. Il mercato. Io ho già visto il mercato. In due fianchi. Poi. Ok. Mi lascia alla parco. Buongiorno a tutti. Salute. Buongiorno a tutti. E qui. È santo. È un momento straordinario. E mi voglio leggere. E mi faccio vedere. con voi, sulle parole di Samenhoff e Elly abbiamo presito la lettera del 1902, il pagio 46 e 61. Chi ha le parole spiega la gravità del malpazzo? C'è il pazzo? Il malpazzo non è sminito ciò. Vi vedo sempre, scrive Samenhoff, che ciò che io possa essere utile per il mio ferro, ogni cosa può essere molto bene e tranquilla, e tutto questo non è necessario semiconstante malpazzo, e per tutti i forti i paralisi tutti i vivi e il progresso in mio ferro. C'è una salmina, che c'è tue i morti, e stas tre gravi, e tre attuali fatte. Ciao! Non è facile, tranquilli, e mi è molto tranquillissima se la prima volta, e che io mi fluo. Ma l'opportunità di parlare con Carulloi, e io riesco a paralisi la vivi. E se stas più grave, lasci la vivi più, ne paralisi qui, e se stas più grave, e se stas più grave, e se stas più grave. Credo, mi spero che vi puoi restare, bene, e tranquilla sento, che buono al mio, fatte ai dirò. Coltivi, la malpazzo, la pazzo, e state au la malpazzo. Do, dà anche un pò più attento, riferisco al veniso al mio, all'in loco è stato il tempo saluto di questo morgo e ancora è fina grazie